Musica 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 Siamo qui a Monte Atene Alto Alessio e Stefano non sono voluti venire Ci sono persi tanta roba ovunque Bella strada, bella giornata Perciò vogliamo tutto il gruppo Figuriamo che la prossima volta venite anche voi anche voi E poi se non lo rimetti via la zezza Mi raccomando Perché chiamo a te lì Ti sai muovere molto bene Musica 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 Grazie a tutti.